A carte 2015 Pax Italia ha presentato una novità importante a livello societario che avrà ricadute significative sul mercato dei terminali di pagamento. Assolutamente sì, la novità è che Pax Italia è stata acquisita a luglio del 2015 da Pax Global. Questa è un'operazione che ha consentito a Pax Italia di consolidare la propria posizione sul mercato italiano grazie a risorse finanziarie e tecnologiche che consentono all'azienda di posizionarsi sul mercato offrendo la completa pletola di servizi di cui il mercato necessita. Questo nuovo assetto societario consente a Pax Italia di posizionarsi sul mercato e di rappresentare una reale e concreta alternativa a quello che è l'offerta oggi dei fornitori di terminali di pagamento in Italia. Come è andato il 2015 a Pax Italia e quali saranno gli obiettivi per i prossimi anni? Il 2015 è andato molto bene, abbiamo rafforzato e consolidato la nostra posizione sui clienti che avevamo già acquisito gli anni scorsi, ne abbiamo acquisiti di nuovi e quindi sostanzialmente Pax Italia in questo momento sta erogando i propri prodotti a tutti i player di mercato che acquistano terminali di pagamento e soluzioni di pagamento elettronico. Per i prossimi anni punteremo sui prodotti in mobilità dagli M-POS a terminali Wi-Fi, GPRS, radiofrequenza con più moduli di comunicazione e punteremo anche sul settore retail. Ci piace molto pensare di poter dire la nostra nel settore dei punti vendita, dei punti cassa evoluti, quindi magari basati su tablet o su tecnologia mobile. Grazie. Grazie. Grazie.